Ciao ragazze, allora oggi questo video sarà interamente dedicato all'eyeliner e alla sua applicazione siccome è una delle cose truccose più difficili, più complicate anche per quanto mi riguarda ho voluto dedicare appunto questo video soltanto all'applicazione dell'eyeliner liquido che poi tra tutti è quello più difficile e quello che dà più problemi insomma quindi niente io vi lascio il demo, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima ciao eccoci qua l'eyeliner che userò sarà il My Best Eyeliner Waterproof Nero ed inizio a stenderlo da metà palpebra piano piano andando verso l'esterno inizio sempre con una linea piuttosto sottile e poi casomai vado ad inspessirla più in là perché non voglio iniziare appunto con una linea troppo spessa perché poi sarebbe un po' un casino renderlo più sottile arrivata alla fine delle ciglia qui mi fermo e comincio a portare il colore da metà piano piano verso l'interno arrivato a questo punto vado finalmente a creare la mia codina qui all'esterno dell'occhio che è quella con cui tutte abbiamo più difficoltà e vado a disegnare adesso vedrete una linea seguendo la direzione delle ciglia inferiori una volta creata questa linea vado ad unire la punta della mia codina con il resto dell'eyeliner formando tipo un triangolino ora vado a riempire di colore le parti in cui appunto non ho ancora steso l'eyeliner tipo devo riempire il triangolino di colore questa volta non troppo perché ho la linea piuttosto sottile ma se volete fare una linea più spessa d'eyeliner ecco il triangolino dovrete riempirlo un po' di più con il colore e voilà la nostra linea di eyeliner è pronta ora non mi resta che applicare le ciglia finite in questo caso dovrò delle mezze ciglia e poi il mascara nero ecco fatto il nostro trucco adesso è completo io vi mando un abbraccio ragazze e noi ci vediamo al prossimo video ciao